In vista l'importanza delle gare dei playoff stagione 2015-2016, la redazione e il nostro canale web tv impone uno stravolgimento di palinsesto importante. A partire da oggi e fino alla conclusione, andrà in onda alle 13, speciale playoff diretta basket. Un appuntamento per vivere insieme la vigilia delle formazioni ufantine, le cronache delle partite, più anche quello che accade sugli altri campi e le analisi post-gara. Un appuntamento che andrà avanti per tutta la settimana per dare maggiore priorità al basket e soprattutto alle formazioni ufantine. Appuntamento a partire dalle 13 con diretta basket speciale playoff.